lotto 176 130 cartoline di piccolo formato lotto molto carino molto 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 carino sono presenti grus cromolitografiche augurali a rilievo cromolitografiche come potete vedere insieme di insieme di qualità fra l'altro molto buona maggior parte come vedete sono viaggiate insieme insieme è stato molto belle queste qua hanno tutti tutti i rilievi in oro zecchino sia questa che questa purtroppo in video sicuramente non si vedrà bene questa è la cartonia di buon natale e 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